Dottore Antonio De Bernardo, sostituto procuratore della Repubblica di Catanzaro, siamo qua a Gizzeria per l'undicesima edizione del premio Caposuvero? Sì, sono occasioni importanti, sono onorato di questo riconoscimento ma non è importante la gratificazione personale, quello che facciamo risponde a un preciso dovere morale oltre che professionale, quello che è importante è che una parte sana della società civile si ritrovi a sottolineare questi valori della legalità e del contrasto alle mafie in modo da sentirsi meno soli in questa battaglia. Una procura che sempre di più in mezzo alla gente e che ascolta la gente? Ma è importante che le persone abbiano la sensazione e che questa sensazione corrisponde ovviamente a un dato reale di potersi fidare della magistratura, di potersi fidare degli organi inquirenti e quindi che possano sentirsi liberi di denunciare con fiducia alle istituzioni eventuali sopprusi, eventuali reati anche gravi. Ecco questo è un messaggio che noi abbiamo sempre cercato di dare e la credibilità con cui si portano avanti anche le indagini, le inchieste, i processi può aiutare in questo senso, quindi noi speriamo di avere questo tipo di contatto con la cittadinanza. Grazie. Grazie.